Approfittando del periodo di classica riduzione negli interventi programmati, sono partiti in questi giorni presso l'ospedale San Michele di Gemona del Friuli gli importanti lavori di ammodernamento dei reparti delle sale operatorie di chirurgia. Il nosocomio infatti verrà dotato di una recovery room, ovvero una stanza con un paio di posti letto dove potranno soggiornare temporaneamente i pazienti reduci dalle operazioni, consentendo così all'anestesista di sorvegliarne la fase di risveglio. Oltre a questi interventi verranno poi riqualificati anche i magazzini, i vani per lo scambio dei letti e le porte. I lavori per una spesa prevista di 410.000 euro commissionati dall'azienda sanitaria numero 3 Alto Friuli saranno effettuati nel corso di questo mese, in modo tale che la temporanea riduzione di attività influisca minimamente sulle attività cliniche, considerando che dai dati rilevati in questo mese gli interventi sono già ogni anno ridotti. Quelli programmati ed urgenti potranno naturalmente essere effettuati nel periodo dei cantieri. presso l'ospedale di Tolmezzo. L'ospicio degli utenti è che i tempi di realizzazione previsti vengano rigorosamente rispettati, riducendo i disagi al minimo. Interventi questi che rientrano nel più completo piano di adeguamento del nosocomio gemonese, presso il quale nei prossimi mesi partiranno anche, una volta appaltati, i lavori di realizzazione del nuovo reparto di emodialisi da 1.800.000 euro, il cui completamento, compreso l'attrezzaggio, dovrebbe risolversi per la prima metà del prossimo anno. Grazie. 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 Grazie.